A Taormina e all'Etna si intitola un grande premio internazionale di poesia, presieduta da Flora un autorevole giuria diviso in premio tra l'inglese Thomas e il nostro Quasimodo, al quale l'assessore per il turismo D'Angelo conferisce l'assegno di un milione. Dopo la lettura di alcune liriche dell'opera premiata, il poeta si dichiara commosso del riconoscimento ricevuto nell'isola nativa. In questa sala, tra le più celebri del mondo, la serata si conchiude con una manifestazione d'alta moda. Leggere come le parole nel verso passano le signorilissime fantasie del vestire all'italiano. Le eleganze del pubblico fanno ecco a quelle della pedana. La poesia aspira all'eternità, la moda al gusto effimero del tempo, ma anche a lei convengono le qualità che uno scrittore ha attribuito ai poeti. Anch'essa è lieve e alà.